Buongiorno e benvenuti a questa videoanalisi. 26 luglio 2016, videoanalisi che potete ricevere gratis via email direttamente nella vostra casella di posta elettronica. Basta cliccare sulla scritta che compare sopra la mia testa. Videoanalisi realizzata insieme al broker STO, vedete già alla mia destra il sito internet, sotto di me scorrono i contatti di Marco Pianezza, il suo numero diretto ufficio di Milano e la sua email per avere tutte le informazioni riguardo all'offerta di STO. I mercati, tantissimi, tutti che vedete oggetto di questa videoanalisi, ma tanto tanto altro ancora. Davvero vi invito a contattarlo e chiedere info su STO. Sole 24 ore di oggi, MPS ancora, si stringono i tempi, ci stiamo avvicinando a venerdì, quando ci sarà lo stress test che sarà pubblicato in chiusura, quindi venerdì alle ore 22, indiscrezioni trapelate. Proprio da sole 24 ore, durante il weekend scorso fanno pensare che MPS è quella che zopica, ma MPS aveva già ricevuto un'almissiva, una lettera da parte della BCE per sistemare il discorso delle sofferenze bancarie. 10 miliardi nei prossimi anni. Oggi poi c'è stata una notizia riguardo al mercato azionario italiano, Vivendi che vuole rivedere, ha detto di vuole rivedere gli accordi con Mediaset e Mediaset non riuscite a fare il prezzo, meno 15%, situazione caldissima. Domani c'è il meeting della Federal Reserve, venerdì c'è anche quello della Banca del Giappone, a proposito della Banca del Giappone, vi faccio vedere subito la piattaforma Metatrader STO. Eccola qui, fantastica, con cui potete operare praticamente su tutti i mercati. Tokyo chiuso negativa, perché si stanno sgonfiando quelle che erano le attese, le aspettative per il prossimo piano di stimolo annunciato inizialmente dal governo, dopo che qualche domenica fa aveva rafforzato la propria posizione, la propria maggioranza di due terzi con la vittoria della Camera Alta, aveva annunciato un piano di stimoli. Oggi sono uscite nuove indiscrezioni dalla stampa locale giapponese, in cui è vero che è pronto un grande piano di stimolo all'economia giapponese, ma una piccola parte è destinata per questo 2016. Insomma, questo già ha portato ad un calo dell'indice Niketokyo, dove tutto questo praticamente movimento al rialzo era frutto della speculazione successiva a questa vittoria delle elezioni. Adesso è partito il movimento opposto e se saltiamo direttamente al Forex oggi, non seguo la solita scaletta, perché c'è da segnalare questa discesa importante. Ha toccato quota 104 il dollaro yen, che ovviamente è correlato positivamente con l'indice Niketokyo e anche Wall Street, essendoci il componente sia dollaro che yen. E qui è partito già un movimento. Chi segue anche la videoanalisi Forex di ieri, titolo ieri, i grafici dicono boom, perché tutte le impostazioni in questo momento, almeno quelle contro le valute più importanti, australiano, euro, sterlina, neozelandese, canadese, franco-sbizzero, vedevano un possibile apprezzamento dello yen, cosa che oggi c'è stata già un'accelerazione dopo la notizia trapelata oggi appunto dai giornali Niketokyo. report di Tokyo. Quindi, però attenzione, siamo nel pieno della speculazione. Così come prima erano solo voci di un potenziamento, di un nuovo grande piano di stimolo dell'economia giapponese da parte del governo, altrettanto adesso sono indiscrezioni. Però venerdì c'è il meeting della Banca del Giappone che a questo punto, chissà, se dovesse minimamente deludere per l'ennesima volta in questo 2016 le attese degli operatori del mercato, qui partiranno probabilmente delle forti vendite, quelle che già si stanno vedendo. E attenzione alla quota 100, sotto 100 anche 99, il minimo toccato proprio qui, vedete, in occasione della notte del referendum del Brexit, in cui tocca al 99 e poi nel giro di un minuto, boom, al rialzo di 200 pips a 101. Quindi probabilmente i livelli da monitorare, che sta monitorando la Banca Centrale del Giappone pronta ad intervenire, sono appunto quota 100 e poi, subito sotto, 99. Sempre, visto che ci troviamo a questo punto con il Forex, c'era stata recentemente la violazione del supporto sull'euro-dollaro, ma ecco lì che guardate, metto anche in primo piano così potete apprezzare ancora meglio, si sta già formando una possibile candela verde, anche perché questa impostazione al ribasso del euro-dollaro non è stata confermata in basso da dollaro-franco-svizzero, il cambio con cui è correlato inversamente, solitamente non sono automatiche, se sale uno scende l'altro, quindi ecco perché le correlazioni intermarket, ma anche all'interno del Forex, bisogna considerarle per avere un quadro globale. Mancava il tassello violazione della resistenza al dollaro-franco-svizzero e oggi vediamo, stiamo assistendo praticamente al, intanto giusto per far vedere come vanno, si muovono entrambi i cambi, stiamo assistendo quindi a nuova candela rossa su un'impostazione al ribasso che non è cambiata sul dollaro-franco-svizzero e sta, bisogna aspettare, ovviamente la conferma questa notte, si rivede la candela verde, quindi euro-dollaro potrebbe tornare al rialzo. Invece la sterlina oggi in questo momento è sotto quota 1,31, anche perché è un componente della Bank of England che solitamente era più cauto su un piano di espansivo, quello che oramai tutti ci aspettiamo ad agosto da parte della Bank of England, ha detto che, qua adesso c'è una certa urgenza dopo il dato PMI di venerdì scorso, che ha portato sotto quota 50, ieri sbaglia, ho sbagliato, ho detto sotto quota 150, è la soglia che delimita sotto, si parla di contrazione del settore, parla di PMI, servizi in questo caso, sopra 50 invece espansione, erroneamente ho detto 100. Quindi, tanto fermento sull'indice, sulle valute e non solo, a questo punto continuiamo, forex e materie prime, perché il petrolio prosegue la discesa. Guardate qui come è evidente la correlazione inversa tra USDCAD e il petrolio. Si sono detti ciao e uno va per una strada, l'altro va per la sua. A nord USDCAD, a sud USOIL. E USDCAD ha violato, ha completato quindi la figura, perché c'era stata già il petrolio, in questo caso aveva anticipato, rompendo il supporto, quindi aveva anticipato un movimento al ribasso e c'è stata la conferma. Adesso anche USDCAD ha confermato una forza rompendo quella resistenza in aria, 1.31.48. L'oro, che è questo qui, Gold, ieri è andato vicinissimo alla violazione del supporto. Oggi sta recuperando terreno, siamo a 1.322. Il book praticamente lo vedete qui, guardate, ecco come poter, qui inserite quello che è il vostro quantitativo, sell o buy, potete effettuare direttamente gli ordini, anche qui per esempio su USDCAD e USOIL. Tutti, tutti i grafici che vedete in questa videoanalisi sono tutti i mercati su cui potete operare con STO. Chiamate Marco che vi dice tutto come fare. E adesso oggi ho fatto un salto solitamente prima indici e poi forex e materie prime, ma con tutto quello che sta succedendo sullo Yen meritava un'attenzione oggi la copertina, diciamo, di questa videoanalisi. Andiamo a vedere gli indici USA, dove siamo nel pieno delle trimestrali e dove c'è una novità. Candela rossa sul Dow Jones, che già c'era stata qui la candela rossa, ma non confermata dal fatto che si era anche in una seduta chiusa col segno meno. In quei casi utilizzo una doppia prudenza. Candela rossa che comincia a vedersi anche sull'S&P 500, il Nasdaq invece continua a tirare dritto al rialzo. Quindi per il momento il Nasdaq resta decisamente al rialzo. Potrebbe flettere esserci un partire delle vendite sul Dow Jones, anche alla vigilia dell'appuntamento di domani sera. Solo statement alle ore 20 e ore italiana, ci sarà quindi solo il comunicato con la relativa decisione del board della Federal Reserve, non c'è la conferenza stampa del Yellen. Sull'S&P 500 comincia a fare capolino una candela rossa ai chinasci, che però necessita della conferma di questa sera alle 22. Se ci sarà anche, chiuderà. Ci sarà la candela rossa in un giorno in cui chiude anche col segno meno. Trend resta comunque al rialzo, anche perché qui parliamo probabilmente di prese di beneficio o prese di profitto, perché se invece vediamo la situazione, siamo ai massimi storici. Se invece vediamo la situazione degli indici euro, è tutto un altro quadro, tutta un'altra situazione. Il nostro Fuzzimib, che era tra i pochi che non era riuscito a superare la resistenza, come aveva fatto invece il DAX qui, o l'Eurostox, ieri anche il francese, che però già probabilmente siamo di fronte ad una falsa rottura. Lo spagnolo aveva rotto la resistenza, ma senza dare quell'accelerazione, quel colpo al rialzo, e si vede oggi una candela rossa. Il nostro Fuzzimib, che non era riuscito a superare tale livello di resistenza in area 16.700, per colpa sempre dei titoli bancari, e oggi vedete che è candela rossa più estesa. Vediamo i titoli bancari, perché con STO potete operare anche su questi titoli. E lì, chi già aveva un'impostazione a ribasso, Banco Popolare di Milano, questo qui in bassa sinistra, oggi accelerazione, intesa che dopo la candela rossa sembrava potesse violare la resistenza, invece oggi torna decisamente a ribasso e cominciano a vedersi, vedete, le candele rosse, questo è Banco Popolare, Mediobanca, Popolare di Milano-Romagna e Unicredit. E con questa situazione è ovvio che poi, se torniamo a vedere il grafico del nostro Fuzzimib, si vede questa candela rossa estesa. Mercato obbligazionario, dove ritorna il colore verde, con in alto qui il 10 anni americano, il Bund 10 anni tedesco e il nostro BTP, che vedete rappresentato praticamente graficamente anche lo spread BTP. BUND, chiudiamo con Apple, oramai prossima alla trimestrale, la candela rossa sulla resistenza in aria a 100 dollari, si sono già visti gli effetti, ieri vedete che candela chiusura a 97 dollari e 31. Vedremo, vedremo cosa dirà la trimestrale Apple, se ci sarà una sorpresa negativa, come è successo praticamente in questo movimento a ribasso che vedete in precedenza sulla chiusura del primo trimestre, quello appunto con le trimestrali di giugno. Bene, per oggi è tutto, grazie per la cortesa attenzione, appuntamento a domani, arrivederci. Grazie. Grazie a tutti.